ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi è il compleanno di maurizio che non vuole farci vedere lì adesso andiamo a sistemare ma voi non lo vedrete in questo video questa cosa perché oggi è il video solo per il compleanno di maurizio quindi preparerà preparerremo poi insieme le torte perché ho deciso di fare due quella è un'altra che ho visto ieri sera non lo so perché poi vengono le idee e niente poi con i festeggiamenti tutti quanti assieme e niente qui vedete il muro ancora sparco non vedo l'ora di dare il bianco così almeno prenderà un aspetto decente quindi maurizio oggi è il suo compleanno adesso smettila non voglio farmi vedere fatti vedere se no sembra che sono senza marito ma sei senza marito io sono uno di passaggio ah beh bene praticamente adesso maurizio esce un attimino con sabrina per andare a prendere i tortellini senza glutine in parafarmacia e la coca cola e intanto io sto a casa e appunto faccio delle faccende e quindi niente questa giornata sarà dedicata maurizio come da regolamento nostro della nostra famiglia oggi non farà niente a parte questa cosa qui e andrà a e potrà giocare tutto il giorno con la playstation ovviamente se vuole non è che è obbligato a giocare può guardare un film guardare un video può fare quello che vuole comunque adesso basta inquadrare quel letto che è disordinatissimo e niente quindi adesso lo lasciamo andare poi ci vediamo dopo quando prepariamo le torte le torte allora sto preparando il pranzo oggi per pranzo mangeremo i tortellini che Maurizio è andato a prendere quelli senza glutine e ha preso vabbè non c'erano i tortellini c'erano i cappelletti questi qui di carne della giusto e invece noi andiamo a mangiare quelli che ho preso al galassia di Giovanni Rana per condirgli andrò a fare un sughetto semplice con un soffritto di cipolla e carota stavo sbucciando la cipolla e infatti mi lacrimano gli occhi e la passata di pomodoro perché comunque il tortellino è già condito abbastanza perciò non faccio un sugo complesso e niente volevo aggiornarvi adesso vi faccio vedere ma sto facendo appunto sugo niente di stravolgente poi però quando facciamo le torte vi faccio vedere tutto qua lo soffitto di Grazie. Allora, ho messo sul sugo, adesso metto un coperchio, lasciamo cuocere un po', Sabrina sta pulendo il cestello dell'air fray perché andiamo a preparare delle patate, facciamo delle patate fritte e poi gli arrosticini, oltre ovviamente ai tortellini perché oggi bisogna fare un bel pranzone visto che è il compleanno di Maurizio. E poi ho trovato ancora questo dado e quindi dopo lo andrò a mettere all'interno. Allora, qui ci sono, scusate c'era la lente sporca, qui ci sono le patate tagliate, ho provato a farle in questo modo, sono tantissime, perché stavo guardando un video di Lucrezia di una vita semplice e ho visto che le aveva fatte così, lei aveva lasciato la buccia, io la buccia l'ho tolta, però ho provato a farle di questa forma. Adesso vado a condirle con sale e varie spezie, ma non le condirò qui dentro, le divido perché è troppo grosso se non riesco a mischiarle, quindi prendo un altro contenitore più piccolo, ne faccio a porzioni e le condisco e poi così le vado a mettere nell'air frayer. Non vi dico ancora per quanto e a che temperatura, perché è un esperimento e quindi non lo so ancora. Allora, ecco pronte le prime, non ho messo olio, ho messo sale, un po' di prezzemolo, un po' di rosmarino e un po' di aglio, venite qui, e basta. Faccio piccole porzioni, perché sennò ho paura che non cuociano. Adesso vado a fare la prima informata, così poi vi dico la temperatura e per quanto tempo. Qui c'è Giorgina, che faccia arrabbiata. Guardate che bello l'orecchino che Nicola ha fatto a Giorgia, ha preso un orecchino e poi gli ha attaccato uno di quei cristalli che ha preso su Shane. Non lo so che dovrebbe essere carli, però è finto. Ah ok, vabbè certo, non è che erano cristalli. Comunque, la torta la sta preparando Giorgina, questo maledetto figlio, e dove l'hai messo il telefono là? Aspetta, adesso vi faccio vedere dove stiamo prendendo la ricetta. Grazie. 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 Dio, dico, dico... Dio, dico... Dio, dico, dico... Va. Caè! allora la tarta che ha preparato Giorgia è pronta adesso si è raffreddata adesso poi la sposto in un piatto così poi è pronta diciamo per stasera per metterci un po' le candeline sopra e niente adesso diciamo che Giorgia mi ha aiutato facendo questo e facendo la lavastovide io ho sistemato il lettino di Pia perché non ci può dormire dentro per adesso è come se fosse il nostro armadio praticamente cioè la roba di Maurizio, la roba di Pia e la mia roba ecco come potete vedere il lettino è sempre pieno però almeno adesso la roba è divisa qui c'è la roba di Pia vabbè la mia roba quella lì sono i borsoni del libero con la roba che infatti vorrei iniziare ad usare e lì c'è la roba di Maurizio dietro del lavoro e davanti per uscire per stare in casa almeno è divisa se uno serve qualcosa riesce a prenderlo perché sennò prima era tutta mucchiata e stava male non che adesso vada meglio perché Pia ci dovrebbe dormire dentro però finché non portiamo giù l'armadio è così e quindi ce lo facciamo ci adattiamo insomma uno, due, tre tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a papà tanti auguri a te eeeh 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 uoooooooh è l'ultimo regalo 2, 2, 3, 4, 3, 2, 1 vieni a tir la carta oopà cos'è sta parola ooooh Captain Tsubasa yeeeeeeeh Ma cosa c'è la fascia per chifare il Tsubasa team? È un... è un... Go Tsubasa go! Wow è la sciarpa! Tsubasa! 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Ahhhh! Come on! Come on! I don't change應then!